Siamo a Prato. Questo è il mio negozio, si chiama Zen Tè, si trova anche su internet, Instagram e tutto. Perché chiamiamo questo nome? Perché vorrei trovare una strada rilassante. Il tè è lo Zen, è lo stesso gusto in Cina. Tutta la vita dobbiamo praticare e cerchiamo te stesso. Quindi vorrei per un'altra metà vita cercare un modo di vivere più rilassante e più libera. Quindi chiamiamo Zen Tè. Sono nata in Sud Cina, a Fujian, la provincia. La mia provincia, dove producono il tè, è una zona molto importante. In Cina ci sono sei tipi di tè. La mia provincia produciamo più di quattro tipi di tè. Sono venuta all'Italia, stato all'Italia più di quattordici anni. Dopo dieci anni di lavoro, diciamo, poi mi sento un po' stanca. Poi mi mette una mente, vorrei avere una salata a tè in Italia. Perché il tè per la mia vita non posso mancare. Tutti i giorni lo bevo. Siamo molto lontano dalla Cina. E poi il nostro figlio, che è nato in Italia, studia in la scuola italiana e anche loro non conoscono bene la cultura cinese. Ho pensato, perché non faccio una salata a tè? Quindi ho detto, se posso avere una salata a tè, possiamo condividere questa cultura a italiani e anche ai nostri bambini. Perché i bambini nati qua, davvero loro non conoscono bene. Poi il tè è un modo molto semplice. Possiamo attraverso una tazza di tè e condividere leggermente agli italiani e anche può aiutare i bambini. I bambini, mentre preparare il tè, si trovano anche tranquillità e più concentrati. Poi l'importante è che può aiutare loro a cercare il nostro latici. Poi dopo aver aperto questa salata a tè, la prima all'inizio, solo faccio i corsi per i bambini cinesi, faccio per tanti cinesi di qua a Prato, per conoscere la nostra cultura e per insegnare come preparare il tè e tutto. E poi dopo tanti italiani sono venuti qua per fare una degustazione del tè, facciamo cerimonia del tè per loro. Poi dopo ho avuto tanti italiani quando ho venuto qua mi dicono ma non sappiamo qui Prato c'è una salata a tè così bella. Ho detto a me questa salata a tè ancora non ci basta, però in Italia è davvero non è facile avere un negozio così. Quindi ho scoperto anche queste cose per tanti italiani di qua, perché italiani davvero non c'è questa cultura, non conoscono la cultura del tè e anche la qualità, perché italiani conoscono la qualità di supermercato, quelle bustine, invece il nostro tè è la qualità artissima. In Cina producono sei tipi di tè, ogni tipo di tè c'è la sua preparazione, la sua coltivazione, la lavorazione, tutto diverso. E poi la qualità artista qui in Italia non si trova. Primo anno noi abbiamo solo due tipi di tè, c'è solo tè bianco e tè gesomino. Ora noi abbiamo più di 40 tipi di tè, quindi sono contenta, possiamo condividere in Italia la nostra cultura importante.